Musica Hola, salve a tutti, sono Bera ed eccoci qui con la Alfa 4 di Stonert Quindi si, Stonert è stato aggiornato un po' di tempo fa, una settimana fa Però io ero in vacanza, adesso sono tornato, possiamo fare il video su l'Alfa di Stonert Sono state aggiunte nuove features, però l'Alfa 4, ormeno la versione di adesso, è ancora un pochettino bugata Però gli sviluppatori hanno detto che a breve faranno un Alfa 4.2 o 1 per aggiustare tutti i bugs e mettere qualche nuova piccola features Prima di fare l'Alfa 5 E ecco il video che mi avete chiesto tantissimo perché non lo so, mi chiedete sempre di fare video su Stonert Però come dico ogni volta, non posso ancora fare una serie su Stonert perché è ancora proprio all'inizio Quindi voglio aspettare che venga aggiornato di più per poterci fare una serie Quindi iniziamo questa nuova serie, cioè questo nuovo video con Stonert Allora, ci mettiamo tipo qua Comunque nella nuova versione di Alfa che uscirà a breve, che hanno detto Alfa B o qualcosa del genere Sarà possibile anche scegliere la modalità tra quella normale e quella peaceful E la differenza sarà in quella peaceful e non ci attaccherà nessuno Perché, ebbene sì, nell'Alfa 4 sono stati aggiunti i goblin che potrebbero venire a rubarci la roba Ehm... qua va Perfetto, sono venuti quindi adesso ci sono i goblin che potrebbero fregarci la roba Eh già Comunque Ehm... incominciamo a fare una stockpile qua Dai Fai una stockpile, perfetto E quindi che cosa stavamo dicendo? Allora, comunque sono state aggiunte molte, molte cose Adesso è possibile accedere a queste categorie qua Ovvero difendi E... tipo, c'è questa che è per difendere il villaggio quando verremo attaccati C'è questa per le professioni E questa per i nostri cittadini Da qui potremo anche promuovere un cittadino Tipo, proviamo lui a carpentiere Clicco to approve E adesso lui diventerà il carpentiere Appena va a prendere la lascia qua Valla a prendere Ecco qua Lei sta diventando il carpentiere Yeee Si è trasformato in un carpentiere Ora Andiamo qui nella sezione lavoro e vediamo che c'è Un carpentiere E ci dice anche qui quello che sta facendo Quello che stanno facendo i nostri lavoratori Adesso gli diciamo di costruire uno workshop La costruiremo qui E... A caravan approach Perché bene... Ebbene si In questo aggiornamento potrebbe anche succedere che arrivano dei nuovi cittadini Che ci danno Ciao Nome della città Sono venuto per portarti dei... Qualcosa per scambiare Per portarti la roba da scambiare Ti piacerebbe darmi tre pezzi di legno Per dieci picket fences Va bene E quindi adesso Arriverà sta roba Che ci darà Questi tre picket fences qua Ok Ah no eccole qua Sono già arrivate Perfetto E le stanno mettendo Nella loro zona qua Ok facciamone un'altra Che questa forse potrebbe essere un po' piccina E quindi Cosa possiamo fare adesso in questa nuova alfa Quando questa tizia Ok questa tizia ha costruito il workshop Adesso possiamo fargli Possiamo costruire un sacco di cose Possiamo costruire delle parti di casa Vedete Le parti di casa Possiamo costruire dei tavoli Delle sedie Tutta questa roba figa Possiamo costruire dei banners Ovvero delle insegne pubblicitarie E possiamo costruire anche Un farmers O Hoe Per fare un farmer Un weaver spindle Per fare un weaver E una spada Per dare dai cittadini Comunque Craft Incominciamo a craftare Questo weaver Coso Però per farlo Ci servirà una fiber E le fiber Si ottengono Da queste piante di cotone Ma Oh mio dio Per Questa pianta di cotone Si trova qui sotto Come faremo a raggiungerla Beh E' facile Costruendo Una scala Adesso I nostri Cittadini Il primo che va Dovrebbe andare a costruire una scala Cioè Sta cosa funziona sicuramente Tipo andando in alto Non so se funziona anche dal basso No E mi sa di no Perché nessuno sta andando a costruire la scala Ah Bene E vai Quindi Non posso Uuuuh Che bella parba che hai Non vanno a costruire la scala No Ok Allora andate ad arvestare le cose qua Su Correte E se non vi va più di aspettare un milione di anni Mentre fanno tutte queste cose Qui c'è il tasto per velocizzare Il gioco Possiamo sia metterlo in pausa Che Velocizzarlo Per ora è solo per due Però in seguito Dovrebbe anche essere per quattro Per cinque Per novantamila milioni In seguito Qui sopra vedete anche che Possiamo vedere il numero di cittadini E la felicità Eccoli qua Vedete E tutte queste cose Anche la felicità Con il journal Però comunque sono features ancora un po' piccole Perché vedete Ci sono Escono degli errori Perché non sono ancora state implementate del tutto E quindi vedete che adesso i cittadini Stanno scassando prima tutto E poi andranno a riprendere Via Andranno a riprendere tutta questa roba Comunque tipo adesso Possiamo anche tipo spostare dei fiori E poi questa è la fibra Ricavata dal cotone E adesso i nostri titti stanno portando tutto Nella stockpile qua Che bello Mi sa che ne devo fare ancora un'altra Perché è troppo piccola Ok Poi Adesso Possiamo anche fare delle farm Quindi facciamo Una piccola farm qui E possiamo scegliere I crops Ovvero I semi Possiamo scegliere Sta roba Il grano O Quest'altra roba qua Facciamo il grano va E poi Quando avremo un farmer Il farmer andrà A Coltivare questa zona Poi cos'altro La cosa diciamo che più Si sono concentrati In questa Alfa 4 È la costruzione Di una casa Perché adesso vedete Che quando andiamo a costruire una casa È più Personalizzabile Possiamo scegliere Il tipo di pavimento Tipo questo pavimento così Facciamo una casa davvero piccolina Così dopo la vediamo subito costruita Poi possiamo Scegliere le mura Se farle così Intorno alla casa Puoi scegliere Il materiale delle mura E se tipo Sbagliamo qualcosa Qui possiamo premere Undo Per cancellare E tipo Scegliere la marrone Anche Il muro della casa Oppure fare noi Un muro Tipo voglio fare un muro Che parte da qua E arriva qua Così Perché si Poi Possiamo scegliere Il tipo di tetto Possiamo farlo sia Possiamo farlo Sia Nero Così Che Più chiaro Così Però non c'entra molto Con questo stile della casa E poi possiamo scegliere La sua altezza Che in questo caso Non sta variando Per quale motivo Perché non varia L'altezza Forse perché Ho già raggiunto Il massimo Ok infatti Guardate Vedete Sta variando l'altezza Guardate L'altezza del tetto E questa cosa qua Dovrebbe essere La pendenza Se non erro Però Boh Non funziona Non so per quale motivo Non funziona E quindi possiamo scegliere Tipo anche L'angolazione del tetto Se ti puoi fare un tetto Con una casa Con un tetto così Oppure un tetto che Da questo lato però È alzato Quindi così Oppure fare un tetto piatto Così Possiamo davvero fare di tutto Che figata E poi in seguito Sarà ancora più personalizzabile Quindi se premiamo qui Start Building Possiamo costruire Però mancano delle porte E delle finestre Quindi se andiamo in Doorways Possiamo mettere Le porte E le finestre Quindi mettere Una bella finestra qua E un'altra bella finestra Qua dietro E mettendo Start Building Incominceranno A costruire Questa robaccia Hanno già preso Tutta la roba No Non l'hanno presa Perché non la prendete Le lo devo dire Io Oh mio dio Ah questo sta dormendo Ah io Oh mio dio Non dimmi che gli devo dire Di spostare tutto E perché non me lo fa spostare Ah forse non mi fa spostare Questa roba Perché dovrebbero raccoglierla Loro Capisco Perché tipo noi possiamo Spostare le fence Da qui E a metterle in altri luoghi O spostare i fiori Però A quanto pare Le fence no Uh Intanto hanno fatto Lo spin lì Qua Per poter fare Il 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 Weaver Weaver Una cosa simile E quindi Scegliamo un cittadino Da promuovere Kevin Sarei tu il fortunato Che diventerà Uno Weaver Yeee Vediamolo Adesso lui dovrebbe andare E prendere il coso E trasformarsi O una lei Non lo so Però Kevin Sembra un nome da uomo Quindi Sì infatti Eccolo qua Il tizio barbuto Sì Il tizio barbuto Yeee Quindi adesso Il nostro amico Tizio barbuto Sarà in grado Di fare delle cose Per noi Adesso se andiamo Qui in lavori Vedremo che ci sarà Anche il Weaver E costruiremo Il suo workshop Qua Costruiscilo O ti serve la roba Ok mi sa che è andato A prendere qualche altra cosa Però adesso sta tornando Mi sa che tipo Tutta sta roba Non la prendono Perché nell'area buia Tipo e quindi Non la riconoscono Come roba da Deciditi Che stai facendo Si sta Prendendo Della Fiber Ah no Eccola qua La vede la Fiber Ok è andato a prendere La Fiber Perché gli serve Per fare Il suo workshop E boom Casa fatta Ma però Ci mancano le porte Le porte e le finestre Perché le porte e le finestre Le deve fare Questo tizio Oh 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 Sorry Le deve fare Questo tizio Quindi adesso Lui farà una bella porta E poi Due Belle Finestre Mettete a lavorare Bello Vedete Adesso lui sta Facendo le sue cose Ah no Sta andando a mangiare Perché sono Affamati Ops Ok vabbè Fate Ok Avvessate questo Cosa Cioè Prendete la roba Si mi vengono sempre Le cose inglesi Italianizzate Italoamericano Quindi Ah Per Per Allora Dai muoviamoci Si è già in velocità massima Dovrebbero aumentare ancora la velocità Perché comunque sono lenti Siete lenti E affamati Uh lui ha fatto il suo workshop Quindi adesso vediamo un po' Aaaaa Vediamo un po' cosa ci può fare Ci può fare Delle nuove vesti Che daranno più difesa E più velocità Ai nostri tizi Vedete questa La upgraded Worker outfit Serve Per diventare più veloci Questa Per Le robe Allora adesso facciamo Un upgrade Roba Però se non sbaglio Prima devo fare la Cloth Bundle of Cloth School of Thread Questo ci servono due cloth Oh posso fare anche i giocattoli Ok quindi facciamo due cloth E poi faccio la worker outfit E poi tipo posso scegliere un cittadino a caso Per fargli indossare quella roba Uh guardate adesso c'è la porta Uh guardate adesso c'è la porta E c'è anche la finestra E poi qui possiamo scegliere Uh i goblin stanno rubando la mia roba Attaccate Difendete Dov'è il goblin? Eccolo Eccolo il goblin Vedete adesso i cittadini lo stanno attaccando Guardatelo Ah si vede una mazza Dov'è il goblin? Vedete stanno combattendo Vedete? Ah il cittadino sta scappando LOL Stanno combattendo Yeee l'hanno ucciso Quindi adesso sono in stato d'allerta Però adesso facendo qui e rifacendo così Non saranno più in stato d'allerta E torneranno a fare le cose Che stavano facendo prima Che pigata Oh Non vedo l'ora che sto nerd Venga aggiornato ancora di più Dai tornate a fare i catt... Tornate a fare le vostre cose Comunque voi probabilmente vi chiederete Ma io voglio vedere cosa c'è in questa cosetta Beh premendo qui possiamo vedere Possiamo scegliere se mostrare tipo Solo i muri dietro E quindi i muri che ci bloccano la vista Non vengono mostrati Vedete? Oppure non mostrare proprio le mura E andare così Oppure mostrare le case Complete Quindi direi che per questa alfa 4 È un po' tutto Ci saranno anche qualche altra cosa Che forse mi sono dimenticato Ma le cose più importanti diciamo sono queste E... Boh Il tizio riesce a fare l'armatura Prima che... Vada via Sta riposando Al fuoco Invece di andare a lavorare Riposi Al fuoco Perché vedete qui c'è scritto davvero tutto Cosa stanno facendo Stanno resto... Cioè stanno riempendo... Cioè stanno andando a posare la roba Si stanno riposando al fuoco Stanno riposando le loro chiappette stanche Cioè c'è scritto... Oh mio dio Quanto è bella la tua barba Uh sta andando a lavorare Ok la tua barba è bella Ma cosa hai fatto? Cioè hai preso un pezzo di legno da qua E l'hai messo qua Qual è l'utilità di questa azione Amico barbuto? No davvero Ok Va bene Quindi questa era l'Alpha 4 Ci rivedremo con questo nerd Quando uscirà l'Alpha 5 Vedremo le nuove cose Le nuove features che saranno introdotte Ciao